Lunedì 5 febbraio, Sant'Agata, è il 36esimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 329 al termine. Il sole sorge alle 7.27 e tramonta alle 17.26. La luna si leva alle 23.24 e tramonta alle 10.18. Sebastiano Caboto è nominato piloto maior di Castiglia. La carica, già tenuta da Merigo Vespucci, comporta funzioni di grande responsabilità. Istruzione dei piloti, aggiornamento delle carte nautiche, organizzazione delle spedizioni d'oltremare. Il Caboto rimarrà in tale carica per 30 anni, invidiato e odiato dai più grandi cosmografi spagnoli del tempo, che a causa sua ne erano stati esclusi. Le previsioni per domani, in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Aumento della probabilità di precipitazioni in serata, con limite della neve a quote basse. Temperature minime in locale diminuzione, massime in leggero aumento sulle zone montane. Venti in moderati tesi da nord-est sulla pianura.